Con 15 voti favorevoli e uno astenuto, il Consiglio Comunale di Spoleto nella seduta di ieri ha approvato la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Umberto De Agustinis. Nonostante le dimissioni presentate dal primo cittadino, in serata l'Assemblea ha di fatto aperto le porte al commissariamento prefettizio. Dimissioni che sono state presentate dal sindaco direttamente in aula dopo due ore di discussione sulla sfiducia. Allora, dopo l'intervento terrificante del Consigliere Loretoni, che mi sembra evidente che ha creato questo punto un'irreversibile frattura col partito che governa la Regione, e noi non possiamo avere una frattura col partito che governa la Regione, Io credo che questa esperienza di collaborazione con la Lega da una parte e Fratelli Italia da un'altra sia da considerare conclusa, e quindi penso di poter assegnare le dimissioni essendo questa esperienza conclusa. Dopo le dimissioni è stato respinto a maggioranza il possibile rinvio della discussione a oggi, e quindi votata la sfiducia. L'esito del voto comporta adesso l'immediata decadenza delle sindaco e della Giunta e la nomina in via provvisoria del commissario. Come previsto dall'articolo 141 del testo unico degli enti locali, con il decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno, verrà sciolto il Consiglio Comunale. Con lo stesso decreto di scioglimento verrà nominato in via definitiva il commissario, di solito un funzionario della carriera prefettizia. Al commissario saranno attribuiti tutti i poteri spettanti al Consiglio, alla Giunta e al Sindaco, in attesa del primo turno utile per le elezioni.